Ciao ragazzi, benvenuti nel futuro Oggi, 21 ottobre 2015, Marty e Doc arrivano nel futuro Ed ecco perché vi racconteremo tutte le curiosità che siamo riusciti a trovare sulla fantastica trilogia di Robert Zemeckis L'espressione adottata da Doc nella versione americana è Great Scott tradotta in italiano come bontà divina nel primo capitolo Nel successivi capitoli invece è diventata Grande Giove Le Nike con gli autolacci, alla fine le hanno fatte veramente In origine la macchina del tempo utilizzata in ritorno al futuro doveva essere un frigorifero che necessitava di un'esplosione atomica per tornare indietro Poi però Zemeckis era preoccupato che i ragazzi potessero chiudersi dentro i frigoriferi e così optò invece per un mezzo di trasporto E' stata scelta alla fine la DeLorean DMC Spielberg utilizzò il frigorifero alla fine nell'ultimo Indiana Jones per salvarlo da un'esplosione atomica Salvevano una Pepsi senza? Senza pagare? In occasione del trentesimo anniversario di Ritorno al Futuro la Pepsi ha deciso di creare un'edizione limitata che si chiama Pepsi Perfect 2 ed è la stessa che vive Marty nel 2015 Questo è il giubbotto originale autoasciugante che Marty utilizza nel film Quando Marty torna nel 1985 il parcheggio non si chiama più Twin Pines Mall ma Lone Pine Mall perché ha abbattuto un pino nel suo viaggio nel 1955 Questo è il volopattino originale del film Nel 2015 la Lexus ha inventato un hoverboard che vola realmente grazie a un gioco di magneti Oh ragazzi la DeLorean è la macchina più scomoda in cui io sia mai salito Praticamente sei per terra, spiaggiato, guarda, tocco, faccio così tocco, tocco per terra In una scena Marty lancia un piatto da torta con il suo scritto Frisbee E' proprio da quella marca di piatti da torta che si deve il famoso gioco Eh grazie Ehi, Frisbee Altro che Breaking Bad Loren crede che Marty si chiami Levi Strauss perché legge quel nome sulle sue opinioni In realtà in originale è Calvin Klein Solo che quel marchio in Italia non era ancora abbastanza famoso Ma se pensare che in Francia è stato scelto il nome Pierre Cardin Bene ragazzi, questo video finisce qui Noi ci spariamo un bel drink al plutonio E ci vediamo al prossimo video C'è La DeLorean dopo ogni viaggio nel tempo Era fredda gelata Non per un motivo scientifico particolare Ma per ricordare il fatto che fosse un frigorifero Nella prima stesura della sceneggiatura Ragazzi, questo è il flusso canalizzatore Ragazzi, questo è il flusso canalizzatore